Ciao, vi racconto il Vodafone Business Store Accessory, il primo store online dedicato alla vendita degli accessori in esclusiva per tutti i nostri clienti, Vodafone Partita IVA e Vodafone Grandi Aziende. Perché acquistare online? Perché da oggi è semplice, veloce e molto vantaggioso. È semplice perché in pochi clic potrete avere direttamente nei vostri uffici ciò che state acquistando. È veloce perché garantiamo la consegna in un massimo di 72 ore e soprattutto è vantaggioso. Per voi sconti fino al 40%. Se volete venire a trovarci collegatevi al sito internet vodafone.it area business oppure direttamente sulla vetrina storeaccessori.vodafone.it. Se conoscete già l'oggetto che state cercando potrete selezionare la marca e il modello del vostro smartphone. Se invece volete visualizzare gli oggetti più venduti della settimana potrete accedere all'area dedicata ai bestseller. Oppure decidete di visualizzare l'area dedicata ai kit con offerte ancora più convenienti. Non dimenticate che per acquistare sullo store online sarà necessario essere registrati. Quindi venite subito sul sito vodafone.it, registratevi e procedete con i vostri acquisti. Buona navigazione a tutti!